L'aspetto più rilevante e più importante che è emerso dalle nostre analisi di quest'anno sul mercato dell'efficienza energetica è l'evidente contrasto tra il fermento degli operatori, testimoniato anche da fatturati che aumentano, da operazioni di M&A che dimostrano l'interesse per grandi operatori come le utilities per il settore e da nuovi investimenti, investimenti in nuovi mercati di tutti gli operatori più strutturati, in mercati più innovativi. E dall'altra l'alto invece la mancanza di una vision e l'inefficacia della governance, testimoniata dalla crisi sempre più irreversibile del meccanismo dei certificati bianchi. Lato governance molte sono le criticità che sono emerse dall'analisi di quest'anno, come detto il primo è quello legato ai certificati bianchi dove è in continuo calo il numero di richieste da parte degli operatori ciò a causa della sempre crescente difficoltà a presentare dei progetti e anche la sempre crescente tasso di rigetto da parte delle istituzioni che sono diventate ormai una su due, un progetto su due viene bocciato. Altro aspetto critico è la revisione complessiva delle strategie per raggiungere gli obiettivi europei al 2020 dove a fronte di un calo degli obiettivi in capo al meccanismo dei certificati bianchi è stato introdotto Industria 4.0. Sicuramente è positivo l'aver previsto questo strumento ma la criticità emerge in quanto Industria 4.0 non è uno strumento specifico per l'efficienza energetica ma è uno strumento per l'innovazione tecnologica e che ha dei costi sicuramente più alti rispetto agli strumenti già esistenti. Più in generale la preoccupazione nasce proprio dal fatto che ci si sta spostando sempre di più da uno strumento efficiente come quello dei certificati bianchi verso uno strumento, versi strumenti che non misurano nulla e quindi notificano solo risparmi presunti. Questo accade sistematicamente in tutta Europa, c'è da dire. Dall'altro lato invece le imprese, le imprese investono nel settore, sono grazie a tutta una serie di operazioni di M&A degli ultimi tre anni sono nati operatori molto più solidi, solidi dal punto di vista finanziario, solidi dal punto di vista tecnico che sono in grado a questo punto di affrontare progetti più impegnativi, mercati più impegnativi e anche operatori, clienti più difficili e più complessi. La nostra proposta per rilanciare il mercato dell'efficienza energetica passa necessariamente dai certificati bianchi. Quello che diciamo noi è che bisognerebbe fare un passo indietro di un anno e mezzo, tornare alla situazione precedente dal punto di vista regolatorio e dal punto di vista delle linee guida precedente al decreto del gennaio 2017 e favorire l'approvazione dei progetti. Ci sono molti progetti meritevoli, le competenze in Italia ci sono, quindi i progetti sono buoni, occorre approvarli e in questo modo generare liquidità sul mercato dei certificati bianchi che favorirebbe anche il rilaniamento e l'abbassamento del prezzo e quindi la riduzione del costo a carico delle bollette e quindi dei consumatori. Inoltre crediamo sia molto importante dal nostro punto di vista favorire l'emersione della domanda che è un tema critico per l'efficienza energetica, ad esempio stimolando gli energivori come legando gli sconti che hanno in bolletta a delle politiche attive, degli investimenti attivi in efficienza energetica, questo potrebbe essere una soluzione importante. Occorre stimolare la pubblica amministrazione perché potrebbe avere un ruolo esemplare per tutti i cittadini e altro tema che crediamo molto importante occorre spingere sulle nuove tecnologie e in particolare quest'anno abbiamo studiato il tema delle misure comportamentali che hanno dei potenziali di efficientamento energetico, di risultati in termini di efficienza energetica molto molto elevati e quindi occorre spingere su queste nuove forme di efficienza energetica e qui il richiamo è anche alle utilities che avendo un contatto diretto con un'ampia customer base potrebbero favorire lo sviluppo delle misure comportamentali.